Si è concluso il weekend di Pasqua e Pasquetta, come è andato per quanto riguarda il turismo? Sicuramente è stato un weekend positivo, ma in generale un inizio anno positivo, con un marzo che ha visto circa il 15% sulle strutture ricettive, un aprile che ha visto per ora molto mordi e fuggi, però con numeriche molto alte, quindi anche punti di informazione hanno visto tantissimi turisti che sono venuti a visitare Arezzo, per ora non dormono qui, o almeno non tutti, però comunque è positivo perché c'è un flusso che si sta spostando dalle altre città toscane verso Arezzo, quindi questo per noi è importante. Per quello che c'erano i turisti, la città è bellissima, ma è poco pubblicizzata, si conosce poco, quasi per caso sono arrivati? Guarda, questo è un problema che ci portiamo aiutato da 30 anni, io ho ritrovato gli articoli degli anni 80 e 90 dove si parlava di promozioni, oggi purtroppo si paga gli ultimi 10 anni dove nessuno si è preso la responsabilità, anche perché a livello nazionale è stata spostata tra l'APT, la provincia, la regione, noi, e di fatto quindi questo ha fatto sì che non è mai stata promossa e noi stiamo lavorando tanto per creare una governance, come da tanto che si sta parlando, che possa proprio fare questo, perché ad oggi non può essere né il comune, né anche le altre istituzioni e neanche i privati da soli, quindi dobbiamo fare sinergia e fare una promozione mirata investendo soldi, perché purtroppo oggi fare promozioni che sia tradizionale o che sia web costa molto, però bisogna partire da un passo prima, dobbiamo creare il brand Arezzo che oggi non esiste, noi abbiamo troppe cose, troppe e tutte molto interessanti, invece dobbiamo fare una scelta perché il marketing alla fine è scelta, fare una scelta su cosa puntare e promuovere quello in modo professionale, però tenete di conto che paghiamo uno scotto enorme, in questi giorni partirò con un piccolo contributo per le attività turistiche, noi metteremo circa 10.000 euro, Montecatina ha messo 500.000 euro, quindi è ovvio che noi partiamo con un gap molto forte che dobbiamo recuperare negli anni.